Rimuovete il crocifisso dalla sala del Consiglio Comunale di Torino. Non è soltanto una richiesta, ma un atto formale, una delibera bipartisan maggioranza e opposizione che è stata sottoscritta da Silvio Viale del PD, Vittorio Bertola del Movimento 5 Stelle e Piera Levi Montalcini, misto maggioranza. L'assist, dicono i firmatari, è arrivato dal gesto simbolico dei leghisti Enrique Carbonero, che hanno rimosso il tappeto di preghiera per i fedeli islamici a Palazzo Civico la settimana scorsa. In seguito, a giustificazione del gesto, avevano ribadito la necessità della laicità del comune, che non deve avere simboli religiosi. Beh, se questo vale per la sala matrimoni, dice Viale, vale ancora di più per la sala rossa del Consiglio Comunale, che rappresenta la comunità che vive sul territorio comunale, cioè tutti i cittadini credenti o non credenti, indipendentemente dalla loro religione. Per questo, continua, ritengo che il crocifisso, in quanto simbolo concordatario della Chiesa Cattolica, sia fuori posto in sala rossa e presenterà una mozione in tale senso. E così è stata depositata la delibera, che verrà discussa probabilmente in autunno. Il punto non è il crocifisso in sé, dice ancora Viale, ma la sua presenza nella sala del Consiglio Comunale, che rappresenta tutti i cittadini di nessuna o qualunque fede religiosa. Mi auguro che la discussione possa svolgersi sulla base di principi e valori garantiti dalla Costituzione e non per pseudo-tifoseria politica o malpancismo pilatesco. Ringrazio i consiglieri comunali della Lega Nord per la loro ostentata manifestazione laica contro la preghiera e le ingerenze religiose in comune, imitandoli quindi a sottoscrivere la delibera. La delibera chiede che nella sala pubblica dove si svolge il Consiglio Comunale non siano collocati i simboli religiosi, con l'eccezione di quelli compresi nelle opere d'arte o negli arredi che costituiscono il patrimonio storico-artistico della sala, e che il crocifisso attualmente esposto sia rimosso. Gli esiti della votazione in commissione sono del tutto incerti, perché non è ancora ben chiaro come si muoverà a proposito della maggioranza, ma di certo la proposta fa discutere. So che al momento non vi è una posizione precisa da parte del PD, commenta ancora Viale. Non chiedo che il Partito Democratico si pronunci, ma che i singoli consiglieri comunali di tutti i partiti possano pronunciarsi con un sì, un no, una stensione o una partecipazione, rendendo chiara, pubblica e trasparente la propria posizione.